Benvenuto in questo Virtual Tour, io sono Angelo Camilleri Addis, Mister Affitti Brianza e ti porto in visita in un immobile presentato dal manager dell'affitto Anna Paro per la rubrica Le proposte di Anna. Ci troviamo a Desio, a pochi passi dalla stazione, in un ampio bilocale non arredato e completo di box e cantina. Ingresso su corridoio che conduce alla cucina abitabile ampia con rivestimento rinnovato e uscita sul balcone con vista sulla parte interna della palazzina. Proseguendo, troviamo il soggiorno con finestra, bagno ristrutturato con sanitari, scarico per la lavatrice e doccia. Ed infine, camera da letto matrimoniale con finestra. Per tutti i dettagli su questo immobile visita il sito desio.soloaffitti.it Per la cultura dell'affitto visita il blog misteraffittibrianza.com Solo Affitti, affittare con sicurezza.